Ciao a tutti, oggi vi faccio il video, come potete leggere dal titolo, dei prodotti terminati del mese di maggio, sto facendo un attimo mente locale, del mese di maggio quindi che faccio in collaborazione come ogni mese con Fiamma del canale Fiamma Presley, mi raccomando qui sotto nell'info box vi metto sia il link del suo canale sia il link del suo video e passate anche da lei prodotti terminati iniziamo subito, ho terminato vari prodotti di beauty eccetera e niente inizio con farveli vedere come primo prodottino terminato ho finito queste salvettine struccanti della Fresh & Clean mi ci sono trovata abbastanza bene, sono imbevute al punto giusto, ce ne stanno, questa è quella confezione piccola da 25 salvettine, sono ideali per le pelli sensibili e possono essere utilizzate sia per quanto riguarda il viso che per quanto riguarda gli occhi, sono l'acqua di amamelis, rosa e fiori bianchi, lasciano una profumazione molto gradevole sul viso che rimane anche per per un po' quindi mi sono piaciute proprio per questo motivo, struccano molto bene e le riprenderò ho terminato questa confezione di chili, queste qui sono quelle, le chili pocket, quelle che si portano in viaggio tranquillamente, sono molto confortabili nel senso che sono ottime da portare in borsa quando si è in viaggio io le porto comunque sempre in borsa, sono le mie preferite, sono stra stra ottime ho terminato questa maschera al tè verde di sephora, questa qui è la maschera anti imperfezioni l'ho provata, in pratica non è nient'altro che una maschera in tessuto che va applicata appunto sul viso è lasciata agire per 15 minuti, normalissima, cioè è molto idratante perché comunque oddio sta scolando tutto è molto quindi idratante perché è ben impregnata di prodotto insomma è una semplice maschera anti imperfezioni, non ho visto niente di che perché l'ho utilizzata avevo qualche brufoletto però non è che chissà quanto abbia potuto fare, l'ho tenuto solamente 15 minuti comunque, ora proverò quella effetto, quindi con quella sicuramente potrò dirvi qualcosa in più però sono davvero davvero ottimo, questa qui era molto rinfrescante e mi è piaciuta tantissimo costano pochissimo, 3,99 euro quindi quando andrò da sephora ne prenderò sicuramente delle altre poi ho utilizzato un altro patch di queste maschere in silicone tipo silicone della Kigo queste qui erano quelle per quanto riguarda solamente le labbra allora questa volta vi devo dire che mi ci sono trovata benissimo nel senso che forse ho capito che era un altro, cioè ho preso il lato giusto della maschera e mi hanno idratato tantissimo le labbra quel giorno che le ho fatte, che l'ho fatto, questo qui avevo le labbra molto sprepolate cioè mi ha idratato tantissimo le labbra, sono ottime, lo sto rivalutando è peccato che non ne ho prese altre perché ormai secondo me non riesco a trovare più in negozio ho terminato questo mascara di Avon, è di una vecchissima collezione infatti ce l'avevo da un po' di tempo questo qui è l'Avon Super Magnifi era quello con lo scovolino molto particolare ma comunque ottimo perché io lo utilizzavo per colorare le ciglia, quelle più piccole che non riuscivo a prendere con lo scovolino grande proprio perché questo qui ha uno scovolino sottilissimo, è piccolissimo ha dei dentini super super minuscoli quindi appunto come vi dicevo, ecco qui mi sono sporcata come vi dicevo, mi permettevano di prendere le ciglia, anche le più corte stra stra bene, mi è piaciuto tantissimo questo qui era il colore brown black quindi era un marrone molto scuro che secondo io lo utilizzavo principalmente quando facevo dei look molto naturali quando avevo bisogno di un leggero velo di mascara sulle ciglia lo utilizzavo e apriva tantissimo lo sguardo nonostante fosse un semplice mascara colore marrone quindi l'ho stra 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 adorato non so, io vorrei tenere lo scovolino perché non sono riuscita a trovarne più fatti così quindi lo utilizzerò sicuramente per qualche altro mascara abbiamo terminato questa qui che è la crema da giorno della Venus quindi quando l'ho scoperta tantissimo tempo fa questa qui è una delle ultime confezioni che presi amavo tantissimo questa crema da giorno che era perfetta per quanto riguarda per utilizzarla prima di fare un make up quindi prima di utilizzare i prodotti viso arrivata ad un certo punto io non sono riuscita più a tollerare l'odore di questa crema era diventato qualcosa di veramente insopportabile mi aveva completamente disgustata che non riuscivo proprio ad utilizzarla più sul viso ha un odore molto dolciastro quindi se non amate questo odore io ve la sconsiglio io infatti ad un certo punto non ce l'ho fatta più e l'ho dovuta accantonare tanto che ormai è scaduta non ha cambiato anche leggermente odore quindi stavo mettendo a posto ultimamente il reparto delle creme viso quindi la butto perché ormai non va più bene poi altro prodotto terminato è stato questo campioncino dello J'adore di Dior la profumazione non è niente male anzi mi è piaciuta abbastanza però per quanto mi riguarda non rimaneva per niente non mi rimaneva, andava subito via quindi sinceramente costa un bel po' la profumazione si è buona però giusto quando lo si va ad applicare all'inizio però poi svanisce molto velocemente quindi non so se lo ricomprerò questo qua era un campioncino da 1 ml compitavo tantissimo in questo profumo però non... e lo volevo prendere però sinceramente dopo aver utilizzato questo campioncino non ho più intenzione di acquistarlo altro prodotto terminato è questo profumino della Tesodi d'Oriente ho presi la scorsa estate perché mi colpì tantissimo la profumazione è la profumazione di Orchidea della Cina Aromatic Parfum questo qui giusto per utilizzarlo tutti i giorni è stato ottimo è una profumazione che persiste tantissimo infatti uscivo la mattina per esempio e ritornavo la sera e mi durava veramente tantissimo quindi tutta quanta la giornata e quindi costa pochissimo sono 100 ml di prodotto ed è ottimo ve lo consiglio l'unico delle profumazioni di Tesodi d'Oriente che mi piace le altre sono molto particolari e non mi fanno per nulla impazzire infatti non ne ho prese nessuna tranne questa perché secondo me questa è la più buona ultimo prodottino per questo mese è questa Simil Beauty Blender che presi tantissimo tempo fa prima che uscisse il boom delle Beauty Blender la presi quindi da H&M l'ho utilizzata poco l'avevo rispolverata da poco però comunque ormai ha un po' di anni e ora l'ho utilizzata un po' e faccio fatica a lavarla perché è rimasta molto molto macchiata tra l'altro voglio prendere la Beauty Blender l'originale quindi questa qui la gestino perché ormai non è più cosa come vedete è un po' è un po' malandata quindi la gestino questa qui non è stata niente male quindi niente ragazze questo è tutto io spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando qui sotto come vi dicevo trovate il link di Fiamma andate a vedere anche il suo video e noi se vi va ci vediamo al prossimo ciao ciao